allora qui possiamo vedere tanta stoffa eccola qua ecco questa stoffa tutto questo è stato donato ma questa stoffa in particolare molto importante perché potrà diventare camicie pantaloni magliette camisette eccetera per i nostri ammessote questo è il nostro pulmino strapieno abbiamo ricevuto aiuto da tanta gente veramente musulmani buddhisti cristiani tutti eccolo qua ringraziamo c'era e domani si parte buongiorno a tutti eccoci in viaggio per me sotto ciao 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 allora questo è il primo viaggio del 2021 speriamo che ne seguono anche altri abbiamo la macchina piena di cose sì è una gioia grande musulmani e buddhisti cristiani insieme per portare una data d'amore a queste persone che hanno bisogno così e vivere con loro la fraternità universale fratelli tutti ciao grazie a tutti voi ciao sono arrivati 150 150 kg di spaghetti di riso eccoci allora stiamo imboccando la strada per le montagne vi sentiamo presenti carissimi amici amiche in tutto il mondo vi sentiamo presenti siamo felicissimi che ci accompagnate che facciamo questo viaggio in mezzo alla pandemia in più c'è anche il problema della rivoluzione in mianna perciò la nostra andata a mesota ha un doppio significato stavolta anche per dare coraggio a queste persone che hanno tutti i propri familiari nelle varie città del mianna che in questo momento soffrono di crimini contro l'umanità tante persone stanno perdendo la vita così ecco questa strada ci ricorda tutti loro allora ci siamo ci siamo ma che stavolta ci siamo arrivati grazie a dio e ciao a lotta a lotta a lotta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.